Buonasera, la ricetta che andrò a realizzare stasera è una torta di salmone con le mele Balvenosta. Gli ingredienti che utilizzeremo sono 250 g di salmone precedentemente sfilettato, 200 g di farina 00 con mezza bustina di lievito setacciata con la farina, 100 g di latte fresco, 20 g di burro, una battuta di erbe aromatica e una mela rossa Balvenosta. Sale e pepe quanto basta. Fuoco moderato, si va ad incorporare il salmone, si fa rosolare leggermente per dare anche croccantezza al salmone. Dopo un minuto incorporiamo la mela tagliata a dadini. Lasciamo cuocere, arrivato a questo punto, a fuoco molto vivace proprio per dare cremosità al salmone e alle mele, dunque da creare un'unica soluzione. Facciamo rosolare per venino. Nel frattempo vado a sbattere le uova dentro una bastardella. Con una frusta vado a sbiancare leggermente e a stemperare con i 100 g di latte fresco, in modo da dare anche, rompere il nervo all'albume e ai buoni. Vado a sbiancare leggermente le uova intera con il latte fresco, vado a salare le uova con sale e leggermente una grattugiata di pepe nero. Vado ad incorporare la miscela secca, cioè la farina 00 con il lievito precedentemente setacciati, in modo da ottenere un composto liscio e abbastanza sfumoso. Viene fatta questa operazione proprio per dare poi morbidezza al prodotto finito. Dunque, una volta che ho sciolto bene la farina con la parte liquida, vado ad incorporare il salmone e le mele precedentemente spaventate. Si amalgama per benino il composto. Vado a tagliare, a trinciare le erbe aromatiche molto finemente e una volta trinciato il tutto vado a spolverare sul composto. Arrivato a questo punto il nostro composto di vele salmone è pronto, lo versiamo nei tortini monodose. Oppure possiamo utilizzare anche lo stampo da blue cake, dunque avere anche una torta unica. La cottura è a 180 gradi, forno ventilato per circa 40 minuti. ed ecco i tortini pronti.